Uuuuuh Non ci sta capito più niente con tutti sti cadavari Olle Ooooooh Ancora Basta C'ho un'altra... Ma perchè non c'ho nulla nella cassa di legno? Che cazzo? Mi dai tempo di fare qualcosa, maledetto te Ragazzi aiuto Seguimi E levati Se sono anche nifotermia Poi... Questa non cammina nemmeno Che casino Non è possibile Dai Ma come... Ma guarda sembra... E' molla mortacci Chi tu... Chi... Ha riferito E' bravo, usa la morta ma buffo, bravo Ceppo Rosso, rosa, verde Madonna Casino Non c'è poco Si... Chi è che ha il ceppo adesso? Chi è che ha il ceppo... Dei tu madre Qualcuno ha il ceppo urgente? Dov'è? Dov'è? Gambe rotte Ah, è morto... Ah, è anche morto Ci sto a capire nulla Dov'è il terzo? Il terzo? Uh, uh, uh Non ci sto a capire più niente Con tutti questi cadaveri Olle Hai leggi Vabbè ragazzi Io... Comunque... Riprenderemo Aspettate un attimo Perché no... C'è... Non è possibile Ma è possibile Non si può Non si può Diventa una angoscia assurda Sto gioco E capisco che è un apocalisse zombie Ma che... Qui siamo a dei livelli Assurdi Seguitemi Ci sono gli zombie Seguimi Questa guarda l'orizzonte Seguimi Io non posso stressarmi così con un gioco L'orizzonte Cioè le munizioni che abbiamo spiegato Sono ferito Questo non è che è ferito Di più Ragazzi ci li dati 5 minuti 5 minuti Non un'ora Tutti feriti Tutto un casino In ipotermia Non vedi un cacchio Quando sono in ipotermia Io ancora non ho posato la roba Negli zaini Ancora Ok Strappa Ho il tempo di fare 3 bende Ce l'ho Ho il tempo di posare la roba Questi due se la dormono Gli altri sono vendor Io devo provare ad andare A catturare qualche 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 scogliattel Qualche lepre Qualcosa che abbia la sembianza Comestibile Oh Conigli Oddio Oddio Presenza Oh È morto? Oh È molla Rompi palle Prendi tutto Basta 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 Se lo miri Quando è rosso Vuol dire Quello becca Al 100% Chezzo Possiamo Perché non è che C'ho le frecce infinite Possiamo Riprendere Le mie cose Neanche Neanche Come Neanche Distruggi Su Eh che palle Però te li chiami Tutti Te li chiami L'arco Su Mi ha finito Di giocherellare Poi magari Quando si travalconiti Abbiamo finito Le frecce Oh Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ci sta Ci sta Sniffando Il vizioso Ci sta Sniffando Però siamo Coperti Se lo miri Magari Così Non lo prenderà Mai Dov'è Che non lo vedo Mi sta pure Scoprendo Vai via 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 Ma ciapolo Però Questa Questa Non era difficile Guarda Sono pazzi Sono pazzi Ce la fai A mirarlo? Oh Prendi Ciuccio Prendi Ciuccio E lì Ce lo zompi Io però Lo devo prendere Ragazzi Non posso Non prenderlo Che cacchio Che cacchio Mollo Che cacchio Che padre Ma non mi lasci Non faccio Un secondo Oh Allora Lì Stai Cazzo Neanche la soddisfazione Dove Dove Eh no Se l'è Puppato Dov'è Basta Ma che li fate Con lo stampino E basta E ne basta No Quando ne mandati 300 Possono Anche bastare No Voglio vedere Dove Io gli squarterei Il buzzo Gli prenderei Gli prenderei Il coniglio Che mi ha mangiato Guarda Maledetto Coltello Scuoglia Cucina Troppo bassa Perché serve Anche per Preparare Il coniglio Che è abbastanza Basico Come preparazione Ma serve La cucina Credo Almeno Livello Uno E Qui E' Spenta Anche il fuoco Siamo a 10 gradi Però Sta arrivando La prima perola Tra un mesetto Un mesetto E mezzo Il tempo Di morire Arriverà La primavera Vai Vediamo Gli altri Allora Cucina 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 Medicina Cucina Zero Bravo Testam Cucina Zero Tutti zero Non si mangia Ragazzi Non si mangia Che bello Che bello Veramente contento Fame Questo Sta morendo Le faghe Più non si può E qualcuno Resterà Senza Magna Abbiamo bisogno Di cibo Il problema Che anche se Lo prendiamo Nessuno Sa cucinare E quindi Non è che La cosa È molto Proficua Costruisci Ci vorrebbe Una bella Barracca Di legno Minchia Devo Dici di legno Robo da matti Possiamo Cominciare A fare Questo Ma non Non è Il momento Ah Fit Nessuno Va bene Facciamo Un'altra Di queste Ma Dobbiamo Ancora Finire Il gabinetto Ma L'ha Cominciato L'altro Signorino Qua Ready E Finché Non lo Finisce Lui Poi Questo È Un anno Che sta Con la Perita Di sangue Alta Ancora Non riesce A curarsi Poi Andrò Avante Anche Un pochino Off camera Dato Che La Situazione Sembra Un attimo Stabilizzarsi E Noi Ci vediamo La prossima Volta Sempre Sul Survivorist Ciao a tutti Sì Sì Noi Sì Noi